Sentieri per il mare è l'accordo stipulato tra Navegazione Golfo dei Poeti e CAI, CAI La Spezia e CAI Liguria. Sarà un particolare tipo di accordo che si pone un unico obiettivo, riuscire a mettere insieme l'esperienza mare e monti senza però perdere il tema fondamentale della sostenibilità e della conoscenza del territorio. Noi siamo per definizione quelli della montagna e firmare un accordo di collaborazione con una compagnia di navigazione è qualcosa che potrebbe sembrare straordinario ma che contribuisce a creare anche un tessuto sociale molto importante. E' chiaro che questo ha grandi aspetti e grandi ricadute dal punto di vista dell'ecosostenibilità e poi il fatto che tutti i soci CAI d'Italia, che sono oltre 350 mila, possono usufruire di questo straordinario paesaggio, di questa straordinaria opportunità, è anche un bel messaggio dal punto di vista turistico, dello sviluppo e oltretutto può diventare anche un esempio per altre realtà in tutta Italia. Nel dettaglio l'accordo prevede una particolare formula di scontistica per tutti gli iscritti del CAI. Questo accordo serve per far sì che si vadano ad utilizzare, incentivare l'uso del battello per spostarsi all'interno del golfo e si vadano a scoprire quei sentieri un pochino meno utilizzati che partono proprio dalle destinazioni che andiamo a toccare con i nostri battelli. I soci di CAI La Spezia, Spezzini, possono già usufruire delle tariffe scontate per i residenti mentre per quanto riguarda tutti gli iscritti al CAI al di fuori della provincia di La Spezia avranno una scontistica dedicata che prevede un biglietto speciale per loro con una tariffa concordata di 12 euro da utilizzare su tutte le tratte all'interno del golfo. La scoperta del turismo attraverso i sentieri e la mobilità alternativa è una nuova fetta di mercato sul quale anche Confartigianato sta buttando un occhio decisamente attento. Abbiamo visto con l'inizio del 2024 un calo, nel senso che l'offerta ha cominciato ad essere superiore alla domanda quindi dobbiamo avere particolare attenzione su questo tema quindi mettere insieme le forze, le risorse, le intelligenze e sicuramente il CAI è parte attiva in questo è sicuramente un fatto importante.